Ragazzi, esiste l'arte del sogno e allora, pira, prendete tre porte, lascia, prendi anche un'altra porta, pira, lascia, ragazzi, sono i colori, un ragazzo, un giovane, è stupendo, è bellissimo, è colorato, non c'è niente di più, bello di un fiore che si apre, come siete tutti quanti voi, ma può capitare, se mi è capitato di incontrarne qualcuno così, con un uso lungo, con colore strano, perché l'ha visto così, tutto legato, legato non so da che cosa, sarà stata incidenza qualcosa di strano, ma poi sei incinocchiato, da te il preterio, le palle l'ha abbracciato, gli ha detto, stai a te, ma sei bravo, ma se vincita, e chiedi perdono, diventi colorato, ben più stupendo di prima. Ok, chiudo. Uno, andate a casa, ve lo imparate. Questo, ragazzi, potete fare come ricordo di un incontro, e c'erano gli incontri che abbiamo, vieni, vieni qua, bravissima, tirate le mani in questo, questo lo potete fare nelle queste riunioni, è semplicissimo, è un classico, la mano, fate vedere la mano, un po' con il mio, non c'è nulla, c'è un fazzoletto, un fazzoletto bianco, un fazzoletto bianco, per favore, bianco, non di seconda mano, anzi, di carta, ecco, grazie, bravo, ecco, lo puoi tenere, voi mettete il fazzoletto, il plastico, lo fate vedere ai vostri ragazzi a casa, babbo, e gli dite, babbo, soffia sul fazzoletto, quando il babbo soffia, il fazzoletto non c'è, perché il babbo aveva messo il fazzoletto, purtroppo non so come, qui, dentro il fazzoletto bianco, teneva proprio quello rosso, fai attento, guarda da vicino, perché più guardi da vicino che ci capisci poco, così quando lo soffia, soffia sempre, non c'è, guardate nel peccuccio del fratticello, non trovate niente, no, non c'è, perché il fazzoletto rosso, blu, la tenete sempre qui dentro, solo che non lo vedete, ma c'è, provo un po' a te adesso, quando sto, vieni, quando sto, vai, devi dire, signore e signora, lei ti sei sempre, sbagliate il fazzoletto, e dai, come devi fare, lo sai, no, signorina, dica una parola magica, bim, 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 più forte, e non sparisce, dica un'altra parola, non so, oppure dica, non so, lo scocodetto, più forte, più forte, lei quando dice scocodetto, la camina, fa l'uomo, naturalmente, non lo so, date a casa, incontrate un uomo, non è mai un uomo nero, è un uomo finto, laddove, nascondete quello rosso, dov'è l'uomo e magica, è nel telefono, in mano, senza che nessuno se ne avrebbe, come si fa, naturalmente, in tasca, vi chiede, di quanto vi fa il gioco, indico, si fa un'ispirazione, convogliate l'attenzione qui, e vi nascondete, in tasca, estrapolate, fate mettere, e quello va giù, ripeto, sta in tasca, però l'attenzione, dovete tutti, porfa qui, fai l'altro, farò esparire, ma non lo farei esparire mai, poi subito andate qua, e lei dirà la parola magica, dici, coccodetto forte, adesso mi dica il fassadetto dove andate, dentro, dentro l'uomo, dopo ti dici, a scuola, a domani, dentro l'uomo, tirerò fuori il fassadetto, prendete l'uomo, lo rompete, in modo che questo uomo, lo prendete capito, e non posso l'uomo, lo prendete, grazie, 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 un regalo, ve lo faccio, semplice, lo portate a casa, come ricordo, il cuoricino, qui, eccolo qua, prendete un palloncino, lo gonfiate il cuore, nella sua metà, poi dovete fare, del salsiccio, eccolo qui, all'interno di questo salsiccio, fate una figura e un museo, e fate vedere tutti i bambini, quando vado dai bambini, le feste fanno, e durante il terremoto sono stato sempre negli hotel, San Benedetto del Tronco, Grotta Amaro, e tutti gli abbiati, la sera di sette, tanti bambini, tante famiglie, così abbiamo vissuto insieme la nostra vicenda, e lì abbiamo provato un po' la gioia di attivere, e di guardare avanti, è bastato un palloncino, così piccolo, semplice, giraggio da questa parte, un palloncino, che mi ha detto, la vita è bella, perché nella vita ci sono